Non posso anticipare alcun tipo di soluzione prima di parlare con la Fiorentina, posso solo dire che sono a totale disposizione per parlare sia con i colleghi di Empoli, la sindaca di Empoli, Barnini, con cui è un ottimo rapporto, che con altri sindaci nel caso in cui si valutassero altre città. Però è inutile fasciarci la testa se non ci confrontiamo prima con la Fiorentina per capire quali sono le opzioni più probabili, dovremo tener conto di tanti aspetti, quelli che riguardano l'ordine pubblico, quelli che riguardano la viabilità e l'accessibilità, insomma ci sarà anche questo pezzo di lavoro che dobbiamo fare, ma ripeto, prima voglio parlare con Gio Barone, voglio parlare con Commisso e poi dopo insieme a loro capiremo quali sono le strade migliori da fare e noi siamo a totale supporto. L'ultimissima cosa, cosa ne pensi da tifoso di questa Fiorentina che sta nascendo e dell'entusiasmo anche sui abbonamenti? Mi piace, mi piace, mi è piaciuto questi quattro gol che ha fatto nell'amichevole ultima, quindi io spero che ci siano tanti abbonamenti, che l'entusiasmo anche dell'Europa faccia volare la Fiorentina e insomma speriamo che tanti tifosi si preparino per abbonarsi, anche perché sarà il penultimo campionato con lo Stadio Vecchio e quindi, come dire, godiamoci questi ultimi due anni.